laudetur jesus christus ave maria cari amici e cari fratelli nella fede oggi stiamo registrando e mercoledì 17 giugno ovviamente 2020 perché questa tavola rotonda si è resa necessaria a seguito del comunicato che dorote ha postato sempre questa mattina di registrazione 17 giugno mercoledì riguardo il sacrilegio eucaristico che c'è stato giovedì che per il vetus ordo e il corpus domini giovedì il corpus domini di giovedì quest'anno in una parrocchia di molfetta san gennaro di cui noi ieri martedì 16 giugno abbiamo fatto la riparazione in diretta insieme con voi che ci avete seguito e grazie anche per esservi collegati il comunicato che dorote ha postato riguardo poi la risposta del parroco che è stata individuata la persona eccetera eccetera insomma ha suscitato tantissimi commenti tantissimi messaggi tantissimi mail che ci sono arrivate così abbiamo deciso di fare questa tavola rotonda per rispondervi ma anche per affrontare il gravissimo problema del sacrilegio eucaristico in particolare ma anche in generale riguardo la riparazione e soprattutto l'adorazione perché dorotea tra l'altro fa parte anche nella sua parrocchia di un gruppo di adoratori eucaristichi e lei è anche il jolly cioè quando qualcuno per vari impegni non può quindi insomma è molto attiva su questo ecco dorotea innanzitutto vogliamo ecco te lo chiedo perché l'hai postato tu ma che io condivido 100% perché questo comunicato si è reso necessario allora probabilmente si è reso necessario più che per noi per loro perché ovviamente conoscono la persona il soggetto conoscono la persona e la famiglia e su questo va benissimo il comunicato va benissimo dove hanno sbagliato a mio parere ma se qualcuno mi smentisse io sarei contenta però mi si deve smentire attenzione con elementi di causa altrimenti ci stiamo prendendo in giro e il comunicato è sbagliatissimo è stato sbagliato fin dall'inizio innanzitutto perché smentisce un po' la linea intrapresa dal primo comunicato e poi perché ok tu conosci la persona va bene allora non entrare nei dettagli magari un comunicato più generico dicendo guardate comunichiamo che la questione è stata risolta conosciamo il soggetto siamo entrati in contatto con la famiglia faremo adesso si farà l'atto di riparazione è stato tutto recuperato state tutti tranquilli preghiamo che non succeda più stop andava bene ma se tu cominci ad entrare nei particolari non ci siamo più perché lì è ovvio se si deve poi infilare qualche piccola nota stonata o piccolo come posso dire giustificazione vi faccio l'esempio pratico l'unica nota stonata di quello che abbiamo noi fatto è che ci hanno rimproverato che la persona in questione ha chiesto perdono bene innanzitutto noi non in tutte e due gli interventi sia il video che abbiamo fatto insieme appunto della diretta improvvisata di riparazione corosario sia il comunicato che abbiamo letto però attenzione in nessuno dei due casi noi condanniamo il soggetto tanto per cominciare altrimenti segnalatecelo ma non mi risulta che abbiamo condannato processato e condannato il soggetto noi abbiamo denunciato l'atto e condannato l'atto abbiamo pregato per questa persona bene ma abbiamo anche dalla metà del video del comunicato dalla metà in poi noi diamo la responsabilità sia al sacerdote per la custodia eucaristica che adesso vedremo e sia appunto noi dove stanno gli adoratori dell'eucaristia quando le chiese sono vuote perché se ci fossero gli adoratori eh uno per ora eh ogni ora uno queste cose non succederebbero comunque sia la questione la persona avrebbe chiesto perdono quindi la cosa si chiudeva lì è mica tanto perché arrivato a questo punto noi avremmo dovuto fare un comunicato per gridare al miracolo perché scusatemi un secondo un soggetto che un attimo prima è considerato psicologicamente instabile che ha commesso un atto non di cattiveria non di malvagità ma stupido un atto a parte che un sacrilegio non è mai stupido però incolpevole che è un'altra cosa com'è possibile che dopo un attimo è capace di chiedere perdono quindi ha capito quindi sa che ha fatto un atto sacrilegio è un momento sa chiesto perdono allora sa quello che ha fatto cioè ragazzi non prendiamoci per i fondelli per favore eh cioè io capisco tutto quanto bastava fare un comunicato senza entrare nei particolari stop l'avremmo accettato questo è il punto numero uno numero due siccome sono entrati anche in discussione uno dei cenacoli di preghiera ehm nei quali anche noi facciamo parte appunto degli apostoli di Maria del gruppo di preghiera ehm ehm Pietro Paolo Trinità ecco ci spiace perché è stata creata un po' di nel gruppo del rosario un attimo di tifoseria all'amica Stefania mi 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 piace nominarla perché l'ho sgridata le ho tirato abbondantemente le orecchie perché purtroppo vedete quando si vuole parlare senza cognizione di causa si creano allora problemi e pure questo va chiarito perché ormai eh siamo no siamo fratelli e sorelle che si parlano tra di loro e quindi bisogna anche dire queste cose in queste tavole rotonde senza nessun problema quindi all'amica cara Stefania eh che abbraccio di cuore di stare calmi e sereni perché innanzitutto noi non è che ci alziamo una mattina e ci mettiamo a fare iscrivizi così ci mettiamo a denunciare facciamo no non funziona in questo modo secondo cerchiamo di capire bene le motivazioni perché qui c'è di mezzo il tesoro più prezioso che è l'eucaristia senza condannare le persone ma dove sta nel nostro video primo e secondo la condanna la denuncia il processo e la condanna alla persona questo è il punto quindi ti attaccano cioè la la cosa assurda lo leggevo anche su facebook ehm che c'è un po' di confusione perché secondo me il problema è che ti ricordi essere lo stiamo dicendo per altre questioni ma tanto si ricollegano no il nuovo umanesimo l'antropologia eccetera il ribaltamento l'uomo al centro cioè una persona basta che sia malata e può fare quello che vuole e no 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 questo è è per questo che abbiamo voluto fare quel comunicato perché noi non ce la prendiamo con la persona infatti alla fine noi diamo responsabilità e al sacerdote per la mancata custodia e con noi perché se ognuno di noi fosse stato lì di ora in ora quella persona non avrebbe fatto quel gesto ancora si sente sul gesemani il il lamento del cristo cerca in vano qualcuno che mi consolasse sì perché e questo è il problema principale cioè e infatti noi l'abbiamo detto no il gesemani del resto la cosa bella qual è quella del gesemani no che gesù ha già pagato però attenzione il fatto che abbia pagato non è che significa chi se ne frega fate di me quello che volete no non funziona così se perdiamo di vista la preziosità del sacramento dell'eucarestia il tesoro più importante ricordiamoci appunto il piccolo tarcisio no ma scusate ma chi gliel'ha fatto fare no ma per proteggere quella eucaristia è morto cioè e quel soldato romano no e ha portato questo ragazzo che ancora teneva stretto su di sé sul suo petto l'eucarestia perché non venisse profanata ecco dorotea è una cosa che a me abbiamo letto insieme il comunicato appena è uscito del del parroco che mi ha colpito ha detto state tranquilli perché non è stato rubato nient'altro né soldi né oggetti la mia prima reazione è anche la tua è stata ma chi se ne frega dei soldi degli oggetti ma soprattutto quello che mi ha stupito è quello che poi noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti perché prima dei fatti di questa storia noi avevamo già detto attenzioni perché si sta trattando gesù e eucaristia come oggetto ecco perché viene paragonato qui anche non stiamo giudicando il sacerdote però la frase che ha detto può mettiamola così eh mettiamola con un condizionale va bene attenti può essere fraintesa che tra soldi e oggetti è stato rubato sì d'accordo il più prezioso un oggetto e no è sempre oggetto da oggetto viene trattata l'eucarestia è vero che i santi parlano di oggetto di desiderio ma in quanto soggetto che è nascosto in un pezzo di pane che è l'oggetto quindi la domanda è ma questi ci credono alla presenza reale o credono a una presenza sacra spirituale e questo è il sospetto forte anche questa imposizione della comunione alla mano la dice lunga eh esatto noi lo dicevamo appunto in tempi non sospetti no per la questione eucaristica ci facevamo questa domanda ma come è possibile che siamo arrivati a questo per esempio io ho sentito dei commenti ho letto dei commenti allucinanti sul tipo di togliere la custodia eucaristica ma se ti ricordi ne parliamo questa è un vecchio cavallo di battaglia dei nemici dell'eucarestia i minimalisti da quest'altro lato che vogliono eliminare il tabernacolo no e prendono come scusa che gli ortodossi non lo fanno non hanno la custodia eucaristica a che serve no il Gesù va consumato lì perché la cena il banchetto è quello la messa è un banchetto quindi si consuma non si nasconde non si non si tiene da una parte dopo tu lo trovi dove nei poveri non c'è bisogno che vai in chiesa a pregare no c'è in chiesa si va solo per fare l'assemblea l'assemblea si riunisce per fare il banchetto sacro che poi eh l'assurdità eh ciò che conta nella chiesa non è il tabernacolo ma l'altare ti dicono questi neoliturgisti e per l'altare l'altare banchetto esatto è una tavola non è un altare noi abbiamo fatto in crisi liturgica sia sul sito sia sulla playlist di video troverete diversi testi perché la questione della tavola viene proprio dall'anglicanesimo iniziale storico e tra l'altro proprio da un dominicano apostata e eh sì non mi ricordo come si chiamava eh però la la famosa riforma poi di cranmer è e lì dove hanno rigirato gli altari hanno distrutto tutti gli altari a muro pensate un po' di marmo no? E hanno girato questa tavola di legno davanti perché doveva essere appunto un banchetto sacro ma un banchetto è quello che è penetrato naturalmente nella nostra chiesa quindi vedete uno dice eh mamma mia da quello adesso da questo atto tu eh tirate fuori siete esagerati no veramente se se avete seguito la crisi liturgica che abbiamo cominciato l'anno scorso un paio d'anni fa vi renderete conto che sono storie che semmai hanno 500 anni di discussioni non è noi stiamo prendendo spunto dal fatto che è successo per farci delle domande ma crediamo davvero nella presenza reale perché se ci credessimo ragazzi miei ecco Dorotea Don Alberto Seci sta facendo alcune video catechesi prendendo spunto da un libro che lui ha tradotto in italiano e che noi vi consigliamo cari amici la riforma liturgica anglicana dove Cramer l'eresiarca anglicano a differenza di Lutero di Calvino non nega eh l'eucaristia come sacramento ma lo riduce a proprio a presenza spirituale cioè eh dicendo eh la vera presenza c'è non quando il sacerdote consacra tant'è tant'è vero che poi loro non hanno più il sacerdozio tra le altre cose ma quando io mi comunico con questa presenza spirituale ecco e qui e qui si ritorna anche come dicevi tu togliere il tabernacolo perché se c'è la presenza solo quando io mi comunico allora non ha senso tenere un tabernacolo esatto ma allora noi dobbiamo fare un piccolo alla innanzitutto vi ricordiamo che la questione di padre Alberto appunto eh voi la trovate anche inizialmente noi ne abbiamo prese perché abbiamo cominciato proprio con il testo da lui tradotto quello di Cranmer infatti e lo trovate in crisi liturgica sia come video sia come testo proprio perché lo prendemmo anche da ehm dalle traduzioni che è stato lui il primo a tradurlo vi ricordo che loro hanno il famoso sito radicati nella fede e che noi seguiamo forse siamo stati tra i primi a seguirlo e ringraziamo e preghiamo per lui e vi ricordiamo noi non è che possiamo copiargli tutti i video giustamente però c'è un canale per cui di youtube e ha il video e il sito quindi per cortesia andate e ascoltatelo eh vi preghiamo quindi questo è una parte l'altra è che noi dobbiamo fare un piccolo passaggio indietro e lo prendiamo dal sito Vaticano proprio dalla commissione e della liturgia del culto eucaristico quindi più ufficiale di così non si può ehm ecco aspetta oppela eh eh sì eh eh la pontificia commissione ecco la relazione famosa del duemila e quattro la custodia dell'eucarestia il tabernacolo e la sua storia e c'è un passaggio breve piccolo se lo riprendo eccolo qui ehm che eh è un documento dottorinale questo poi però siccome mi si è spostato il mouse eh non ti preoccupare il mouse allora eccolo qua allora bisogna tornare un attimo a ritroso lui dice l'unicità dell'altare nelle chiese è attestata fin dal sesto secolo hm quindi eh eh dopo Cristo in seguito gli altari aumentano di numero ma rimane l'assoluto rispetto per la mensa dominica che esclude quanto è straneo alla celebrazione del santo sacrificio verso la fine del secolo nono e nono sì sì è nono si inizia a collocare sulla mensa dell'altare in modo permanente le reliquie dei santi infatti nel rito antico ci sono ancora e si aggiungono ben presto altri elementi tanto che agli inizi del decimo secolo un importante documento conosciuto sotto il nome di admonizio sinodalis divenuto legge generale per tutte le chiese d'occidente prescrive che sull'altare si devono tenere soltanto le urne dei santi capse l'evangeliario l'apisside con il corpo del signore per gli ammalati ogni altra cosa va riposta in un luogo conveniente allora questo e poi qui dice si dovrà attendere al sedicesimo secolo per trovare il tabernacolo fisso sull'altare maggiore ecco e più tardi ancora vederlo collocato al centro ultima fase di questo sviluppo storico dell'altare fin qui è chiaro allora e la questione è che la mensa però dominici cioè praticamente non il banchetto la mensa non ha l'intenzione di un banchetto festoso ma era di sacrificio perché quell'ultima cena annunciava il sacrificio quella era la mensa che ha sempre inteso la chiesa non la pizzettata anche perché nell'ultima cena Cristo istituendo il sacramento e anche il sacerdozio fece capire che il banchetto sacrificale dell'agnello sacrificale che facevano gli ebrei prefigurava la croce esatto esatto ecco quindi poi qui si parla già dal periodo delle catacombe e dove ci sono addirittura dei simboli dice stenderete un piccolo velo cioè ci sono già delle indicazioni ecco nel rerum liturgicarum del cardinale bona che cita il testo delle disposizioni impartite da un vescovo di corinto per pensate un po quindi risaliamo ai tempi di san cipriano dove dice se la vostra casa è dotata di un oratorio depositerete sull'altario il vaso che contiene l'eucarestia se manca l'oratorio allora sopra una tavola decente stenderete un piccolo velo sulla tavola e vi depositerete le sacre particole brucerete qualche grano di incenso e canterete il trisagion del nostro sanctus insomma è santo 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 come scusami dorotea solo una domanda un po come come facevano i cristiani dell'europa dell'est per tenere nascosto l'eucarestia in casa avevano sì esatto ma perché questo si riprende infatti noi stiamo raccontando di qualcosa dei tempi antichi visto che si parla tanto di archeologismo il simbolo quindi dopo aver fatto attenzione bene tre genuflessioni in segno di adorazione assumerete religiosamente il corpo di gesù cristo santo eusebio ci informa che sacerdoti conservavano l'eucarestia nelle loro abitazioni perché venisse portata la comunione agli ammalati ecco diciamo l'escursus e noi lo terminiamo qui perché per far capire perché nasce la custodia per due motivi per essere adorata e per essere portata agli ammalati assenti per questo nasce la custodia eucaristica perché c'è anche un'affermazione di gesù no quando dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo in che modo gesù è presente tra noi tutti i giorni fino alla fine del mondo l'eucarestia ok ma se non ci fosse la custodia eucaristica mancherebbe in dei momenti della giornata dice no perché si fa noi sappiamo che esiste un orologio eucaristico e quindi questo escursus è stato interessante per cercare di capire come fin dal primo secolo no nasce questa detta custodia eucaristica allora abbiamo detto il mondo ortodosso ha detto no perché appunto si è collocata nel tempo questa storia ma perché perché la chiesa aveva intuito i santi padri avevano capito avevano intuito l'importanza di questa presenza quindi la cosa più importante e noi vi rimandiamo anche al famoso testo di padre bortoli appunto sulla questione della comunione alla mano perché ripercorre anche lui la questione di questa presenza reale dell'adorazione eucaristica perché infatti vedete anche gli stessi inginocchiatoi certo che nei primi secoli noi non li troviamo tant'è vero che nella chiesa ortodossa non ci si inginocchia ma li fanno delle prostrazioni profondissime per esempio alcuni cattolici orientali cioè ortodossi uniti alla chiesa di roma i maroniti fanno certe prostrazioni al momento della consacrazione che durano anche mezz'ora e guardate e poi lo dico io lo dico in latino ma loro lo dicono in greco chiaramente sancta santorum le cose sante solo ai santi che che ovviamente a questo punto uno si potrebbe anche interrogare chi è santo se siamo tutti peccatori ecco chiariamo pure questo aspetto san paolo per esempio se ci facciamo caso non chiama le sue comunità comunità di peccatori ma li chiama comunità di santi però tutte le sue lettere sono dei cazziatoni spaventosi vi ricordate anche la questione dell'incestuoso no che fa san paolo addirittura abbandona quello nelle braccia di satana e rimprovera la comunità perché gli dice non è bello quello che avete fatto perché voi avete accolto e avete taciuto un peccatore cioè il suo peccato non è bello il vostro vanto e quello che avete fatto e allora com'è possibile comunità dei santi perché siamo battizzati quindi certamente che noi risponderemo a dio da santi traditori se non ci saremo convertiti quindi stiamo attenti ecco perché noi saremo giudicati più duramente di un non battezzato perché noi siamo i santi e si mettano la pace e gli altri si mettano in pace gli altri perché lo dice lo dice la scrittura lo dice il battesimo perché il battesimo non è uno scherzetto ecco allora dorotea come si può parlare con tanta superficialità di ammettere alla santissima ecclesia chiunque commette peccato mortale o addirittura non è cattolico come si fa solo a prenderlo in considerazione ecco allora il problema è tutto qua nella testa perché effettivamente loro non loro non dicono questo è ma anche anche il papa per la questione discussa di amoris letizia lui l'ha detto ma io non ho mai detto questo ha detto fate robis fate robis il problema è il caso per caso che io ti ricordi che all'inizio abbiamo discusso anche io e te su questa storia del caso per caso che io non lo rigetterei in totos perché e la questione del caso per caso la deve vedere un vescovo ma un vescovo coscienzioso però attenzione responsabile un vescovo che prende a cuore attenzione le due persone coinvolte e che però li deve spingere se non c'è altra soluzione alla attenzione alla come si dice all'astenzione all'astenersi dagli atti carnali ma il fatto è questo che il legislatore quando fa una legge ricordiamo che qui il legislatore è dio perché la chiesa non ha potere sui sacramenti la chiesa li amministra e li custodisce quando fa una legge il legislatore la fa a livello generale non la fa caso per caso per questo c'è il vescovo che è il sorvegliante e l'anziano ecco per spiegare bene ai nostri ascoltatori no ma infatti la legge è che quello è il problema quando si parla anche del diritto canonico molti per esempio ce l'hanno chiesto ma sono leggi che ha fatto la chiesa si possono cambiare o ci sono degli articoli che non si possono cambiare e beh certo ci sono molti articoli che non si possono toccare perché la maggior parte delle leggi formante il diritto canonico vengono dalla scrittura vengono dalla tradizione apostolica vengono proprio dalla patristica vengono dal magistero bimilenario della chiesa quello veramente infallibile quindi perché non è che un papa si è svegliato una mattina ha detto oggi fammo questo oggi fammo così oggi fammo cosa non è funzionato così oppure fammo un concilio ci mettiamo d'accordo e cambiamo queste regole non funziona in questo modo per fare un esempio quando i farisei hanno chiesto a gesù per il matrimonio lui non ha detto fate un concilio e poi decidete decidete caso per caso secondo le mode no ha detto in principio questo perché la chiesa dicevamo non è il divino legislatore e la serva l'ancella la sposa del divino legislatore ecco per un esempio concreto la chiesa può decidere per esempio la struttura architettonica di una chiesa può decidere come dare la comunione ma non può decidere a chi dare la comunione non so se ho reso bene l'idea ecco dorote no non molto perché a chi dare e come no in base alla legge certo certo che deve decidere a chi darla come no est no va bene se uno si è confessato è un conto no allora no la chiesa lo decide come a chi dare lo decide come perché devi essere battezzato certo e beh figlia mia questo è a chi darlo sì però il signore dice di non dare le perle e poci questo la chiesa non lo può cambiare la chiesa può capire non può cambiare questo la chiesa ma a chi darlo la chiesa lo sa e lo deve sapere altrimenti a chi lo dà come fa a fare discernimento scusami è la chiesa sa chi deve dare solo che oggi si sta cambiando la priorità se noi mettiamo la persona al centro al posto di cristo è evidente che non so ecco io tolgo questa adesso ci metto invece di gesù del sacro cuore ci metto la statua che ne so di mi nonno no scusate ragazzi è evidente che oppure metto un uomo stilizzato ma è evidente che io ribalto la priorità certo no ecco quello che volevo dire che la chiesa non ha il potere di dare la comunione a chi è in peccato mortale questo volevo dire perché questo è esatto perché questo è del divino legislatore però se mettiamo come divino come legislatore non più dio ma la coscienza del singolo cambia tutto capite non so se mi spiego perché la coscienza cristiana è quello che sta succedendo ecco perché la coscienza cristiana ecco dorotea tu puoi spiegarlo anche meglio di me essendo catechista non è la libertà di coscienza che ti stanno facendo passare oggi i liberali cioè decido secondo le mie voglie no e l'adesione formata alla alla divina rivelazione è un'altra cosa infatti si parla di che cosa retta coscienza la retta coscienza è questo no scusate la retta coscienza è questo ma retta sì no è la coscienza retta altrimenti è famo una coscienza così una coscienza così una coscienza cosa allora la retta coscienza e è stata schiacciata cancellata annullata con il liberalismo e chi sono stati i primi signori miei luterani i calvinisti di più e perché lutero non ha sviluppato certi concetti li ha sviluppati calvino dopo zwigli e calvino e poi tutto il resto dell'ala anglicana cioè infatti chi è il più grande se voi ve l'andate a studiare il cardinal newman appunto sulla questione della retta coscienza perché perché è il protestantissimo che ha ribaltato la questione del principio perché in poche parole da già il sola scrittura no io ho la capacità la libertà di aprire il libro capirlo da me stesso non ho bisogno di altre mi devo formare la coscienza da me stesso perché non sono stupido se sono stupido ti dice in sostanza il protestantesimo lascia perdere non ti preoccupa basta che credi in Gesù Cristo non ti fare domande lascia perdere tanto non è importante tanto è vero che arrivò a dire l'utero noi abbiamo fatto un libro da padre coggi no rileggendo leggendo ripensare l'utero ripensando l'utero e ecco metteremo a nota perché lì c'è una frase micidiale che sta ritornando oggi una frase di l'utero micidiale l'utero diceva non è importante a quale dio tu possa credere cioè a noi non è importante l'identità di dio l'importante credere in dio allora questa frase se state attenti è stata detta dal vescovo di roma il 27 marzo sotto un'acqua battente in piazza san pietro vuota andatevelo a rileggere dove dice una frase del genere non importa cioè non è importante stare lì a discutere di quale dio stiamo parlando l'importante è che chiediamo perdono a dio ma se io non conosco questo dio se la mia coscienza non ha bene chiaro chi è dio scusate allora mi va bene anche il dio da buddhavi capito certo allora mi va bene anche buddha che dio non è infatti allora mi va bene l'induismo ma mi va bene qualsiasi cosa mi va bene la pace a mamma che significa madre terra una cosa che mi ha colpito di questo libro di padre coggi ripensando l'utero infatti che lui lo spiega benissimo non mi ricordo il titolo del capitolo però dove affronta la cristologia di l'utero dove lui praticamente spiega che a l'utero infatti non interessa il cristo in sé ma il suo cristo cioè si è fatto un cristo a sua immagine e somiglianza il sola scrittura se noi elaboriamo il concetto del sola scrittura che significa che io interpreto la scrittura come dico io cioè io leggo e quello che io voglio capire è la verità tant'è vero che anche nel protestantesimo ma fin da subito si spaccheranno in mille rivoli perché ovviamente ognuno pretenderà di avere l'interpretazione giusta l'utero dice questo infatti toglie e confonde anche la questione del liber arbitrio no mentre dio noi troviamo che dio dice e mi pare nel siracide a nessuno dato il diritto di peccare per l'utero invece no pecca quanto vuoi perché è venuto gesù quella frase è superata da chi da gesù che è morto per noi insomma ci sono tutta una serie di cose che vanno a formare la coscienza ma noi dicevamo del liberalismo perché nel famoso discorso di ratisbone a ratisbone di si a ratisbone di ratzinger si si a ratisbona si a ratisbona si a ratisbona si a 11 settembre 2006 esatto non c'è solo la questione dell'islam molti si sono affermati alla questione poi che è stata buttata in cacciara dell'islam a mendirità più in basso ratzinger benedetto decimo sesto disse un'altra frase molto molto agghiacciante la questione della responsabilità protestante su un certo liberalismo liberismo dal quale ci derivano tutti i mali di oggi vi consigliamo un altro libro su lutero che affronta la sua figura dal punto di vista storico martir lutero il vero volto di un evoluzionario della storica angelo appellicciari sì anche dove guardate che io dorotea l'abbiamo detto tante volte a nostro a nostra opinione a nostro giudizio per carità non ce ne non ci siamo mai elette a a somma a somma e maestre ma carità però il signore una testa ce l'ha data come diceva sant'ambrogio e noi cerchiamo di usarla a nostro parere è lutero il vero falso profeta dell'apocalisse perché guardate che il liberalismo le dittature il il marxismo ha un padre occulto che è martin lutero senza di lui infatti qua mi fai pensare che innanzitutto questa tavola rotonda che esce appunto questo lunedì avremmo già messo un video su una strana profezia quindi se non l'avete visto andate alla rivedere perché lo avremmo già messo è interessante perché c'è proprio all'interno di quanto sta avvenendo un epilogo un epilogo e ossia la fine dei tempi la fine dei tempi dei quali tra l'altro non ci stiamo inventando noi perché lo ha detto la vergine maria il mio cuore immacolato trionferà dopo la grande tribolazione no chiudendo lo dice anche il monfort i tempi questi sono i tempi di maria e guardate un po quando maria subisce il primo attacco da lutero e non è vero non date retta che lutero era mariano come addirittura abbiamo sentiamo oggi dei mariologi addirittura monfortiani che cercano di nascondere addirittura questo di lutero non era affatto è vero lui ha tenuto la prima parte dell'ave maria certo cancellando la seconda dicendo che la seconda era una bessemmia che era un'invenzione della chiesa la seconda parte dell'ave maria perché era una supplica alla vergine quindi dice ci teniamo la prima parte perché nel vangelo non poteva dire diversamente è la salutazione angelica e sono le parole di santa elisabetta ma bisognava togliere madre di dio perché per loro se voi andate a vedere in tutto il protestantesimo hanno abolito il termine proprio madre di dio perché per loro nel vangelo siccome è scritto solo madre di gesù non bisogna dire che maria è madre di dio qualcosa ha tenuto l'ala un po più fondamentale fondamentalista mettiamo la tradizionalista della dell'anglicanissimo ma non sono hanno una specie di rosario pure loro hanno imitato un po ma non non di più ma il termine madre di dio se ci andate a far caso l'hanno tolto guardate che tutti gli eretici sono dei raffinati sofisti ma infatti quello a cui stiamo assistendo quindi voi pensate allora se don bosco alla fine dell'ottocento e poco prima della rivelazione della visione che ebbe papa leone tredicesimo col famoso esorcismo detto 13 ottobre 1884 ecco e quindi parlò prima san giovanni bosco vi ricordate il famoso sogno delle due colonne no l'eucarestia e la vergine maria guardate un po i due pilastri le due colonne buttate giù da chi dall'utero dal protestantesimo quindi è lì ecco questo per ritornare perché per noi è l'utero il falso profeta è l'utero ecco perché noi possiamo parlare di una conclusione di tempi noi qui si sta concludendo un ciclo tra l'altro anche politicamente parlando economicamente parlando tutta la crisi che stiamo vivendo e subendo oggi ma da dove credete che vi viene dalla rivoluzione francese dall'illuminismo dai risorgimenti dalla massoneria nata nel 1700 quindi stiamo arrivando a un epilogo non la fine del mondo riandatevi a sentire è quel video che abbiamo fatto su questa ultima profezia scoperta scoperta è uscita da poco ecco dorotea siccome abbiamo già superato il tempo siamo già quasi a 40 minuti e faccio un'ultima domanda ecco con la tua anch'io sono andata adorare la santissima eucaristia ma tu ormai fai parte di un gruppo di adoratori della santissima eucaristia perché nella tua parrocchia vabbè c'è stato il covid quindi il lockdown c'è stata un'interruzione avete l'adorazione eucaristica perpetua ecco ti chiedo per concludere la tua testimonianza personale ecco ma la mia testimonianza è solo che di grazie che beh una ve la devo dire perché no può forse può aiutare molti perché ancora qualcuno ogni tanto viene che ci accusa di accusare un sacerdote del piccolo resto appunto che ha inventato il piccolo resto e che noi dovremmo sostenerlo no per un semplice motivo perché il piccolo resto io mi sono accorta con i traslochi i trasferimenti le parrocchie è veramente sparso dappertutto e io sto vedendo quanta grazia che il signore sta dando in molte parrocchie proprio stamattina ci sono stati i funerali di una persona di 84 anni che faceva pensate un po' l'adoratrice eucaristica 84 anni e nello stesso tempo era vincenziana si occupava della carità della parrocchia un animo guardate oggi la parrocchia abbiamo fatto i funerali fuori all'aperto saremo stati 200 persone e non erano tutti familiari c'erano addirittura i fiori con scritto il condominio gli amici pensate voi gli amici di questa persona 84 anni che ha lavorato fino all'ultimo solo il covid l'ha potuta fermare e io l'ho conosciuta perché appunto due anni che stavo qui e con l'adorazione eucaristica ci siamo incrociati anche per gli orari e parlavamo spesso e qualche volta ci siamo anche condivisi dei pensieri e mamma mia che cuore eucaristico che aveva sta persona e sì se le faceva le domande anche lei che non gli piaceva certa modernità entrata in parrocchia beh lei aveva 80 anni e passa non gli piaceva certa modernità sapete come la viveva lei in ginocchio pregava e diceva che devo fare mi ha messo qui il signore e dove vada adesso e lei faceva dice per questo vengo qui l'adorazione perché poi lei diceva io non potrei fare la carità se non facessi l'adorazione andava la messa pensate tutti i giorni tutti i giorni andava la messa tutti i giorni volete le prove quindi ragazzi le prove ce le abbiamo che il signore in queste messe c'è c'è e sta lavorando solo che a volte siamo presi un po troppo da noi stessi che non lo vediamo non lo vediamo all'opera perché noi vediamo la nostra opera invece vedete una persona di 80 anni che dice invece di dire ma avete stufato tutti quanti questi non sono tempi adatti per me mi ritiro no continuava io la vedevo il giovedì mattina lì a piegare a pulire a sistemare la roba a dividere no tutta la roba per i poveri e poi a distribuire selezionare la roba da mangiare perché abbiamo un bel centro qua in parrocchia ma tutte queste persone fanno adorazione eucaristica e sono quelli che vanno alla messa praticamente tutti i giorni questa persona mi ha insegnato a me in due anni di adorazione e di aiuti e cose che si andava andavo sempre da lei io per queste cose della vincenziana no che sono quelli che si occupano appunto dei poveri nelle parrocchie da non confondere con la caritas lasciamo perdere e bene io ho imparato più da lei in teologia liturgica che da molti teologi ecco questa è la mia testimonianza io racconto solo una cosa una donna una volta andò da madre Teresa di Calcutta e dicendo mio marito un anno fa mi ha lasciata se n'è andata con una più giovane ora è pentito è tornato ma io non riesco a perdonarlo sapete che ha fatto madre Teresa l'ha presa per mano e gli ha detto vieni mettiamoci in ginocchio insieme facciamo un'ora di adorazione eucaristica chiedendo la grazia al Signore che ti dia la forza di perdonarlo è passata l'ora e ha detto io ancora non lo perdono torna qui la stessa ora dopo 30 giorni di adorazione eucaristica un'ora al giorno la grazia del perdono è arrivata ma sì ma voi pensate una cosa bellissima questa anche perché il perdonare quante volte l'abbiamo detto è un dono per dobbiamo chiederlo noi tante volte chiediamo delle cose assurde veramente chiediamo quello che ci piace a noi chiediamo quello che vogliamo noi ma quel perdonare donare per donare che significa perdonare significa quel dono perché Cristo possa operare in quella persona se io non perdono Gesù non può operare la Vergine Santa non può operare ecco perché dobbiamo perdonare donare perché la provvidenza come ha aiutato noi possa aiutare loro guardate che la nostra conversione è frutto del perdono a noi di altri da parte di altri altri che ci hanno perdonato magari non ci viene a mente quindi la questione è facile dire non ho mai fatto del male a nessuno è facile ecco ecco qui ritorniamo così abbiamo cominciato con la questione eucaristica la custodia eucaristica quindi perché è importante ma perché Gesù l'ha detto senza di me non potete fare nulla ora un conto è fare con lui spiritualmente come fanno i protestanti altra cosa è farlo davanti alla divina presenza davanti al tabernacolo e caspita quando sentiamo di qualcuno che vuole andare in certi loghi dove ci sarebbero presunti apparizioni e la Madonna sta lì no attenzione può stare anche lì ma dove sta principalmente la Vergine Maria ai piedi dei tutti i tabernacoli della terra dove c'è la presenza reale lì troverete Maria poi la troverete anche nei luoghi delle apparizioni ma principalmente la Vergine Santa sta sotto la parrocchia di casa vostra e non andarci è un peccato è un peccato molte apparizioni scusa Dorotea molte apparizioni poi magari di questo ne parleremo su Lucia dopo dopo Fatima quando era nel suo convento della della Vergine le ebbe durante le adorazioni eucaristiche infatti esatto esatto quindi l'appello che vi vogliamo fare a tutto questo escurso sia questo che è successo quindi la chiudiamo definitivamente qui chi la vuole capire la capisce e state attenti perché è molto importante eh l'adorazione eucaristica è fondamentale o si adora o non si adora se adoriamo e diciamo di credere ragazzi è impossibile non fare la visita al sacramento ora siccome noi sappiamo che molte chiese sono vuote i sacerdoti non si è capito che cosa hanno da fare non li giudichiamo eh però cari sacerdoti un appello ve lo vogliamo fare organizzatevi chiamate i parrocchiani e dite guardate io il giorno mi devo assentare eh un tot di ore potete per cortesia occupare queste ore altrimenti io sono costretta a chiudere la chiesa e noi eh che facciamo andiamo dal sacerdote eh padre oggi non l'ho visto ma era vuoto senta facciamo una cosa facciamo dei turni guardate non so voi ma io se vado e trovo una chiesa chiusa mi preferirei la conialata è una cosa orribile trovare la chiesa allora qui c'è e chiudo con questo eh Papa Francesco è stato il primo a dire proprio proprio nel 2013 mi pare era mi pare che era già settembre fece un monito a tutti i parroci lasciate le chiese aperte e guardate che non è come la raccontarono che molti dissero per metterci dentro i poveri no 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 lo diceva per l'adorazione eucaristica lasciate le porte aperte perché la gente passando gli viene voglia di entrare se trova chiuso se passando trova sempre chiuso ma gli passa pure la voglia lasciate le porte aperte disse Papa Francesco eh e di fare gruppi di adorazione per non lasciare solo il Santissimo eh mi fa specie che queste cose del Papa però non vengano ascoltate ma ti immagini se eh se eh Rattisbon trovò quella chiesa chiusa ecco pensate pensate a Sant'Andrea delle Fratte appunto ma pensate se quel giorno l'avesse trovata chiusa ma anche mi pare Jean Vuitton no? Jean Vuitton ebbe un'esperienza simile no? Si entrò con un amico eh tutti e due e lui comunque era il raggio di luce eh era con questo amico entrarono dentro questa chiesa perché il suo amico ma anche Jean Vuitton erano comunque una Marte delle belle arti e entrarono in questa bellissima chiesa di Parigi non ricordo quale e Jean Vuitton non è che era proprio Notre Dame? Non lo può darsi può darsi ricontrollerò eh Jean Vuitton rimase ammirato dal tabernacolo bellissimo e chiese all'amico cosa c'è in quello scrigno non sapeva nemmeno il nome di così prezioso perché uno uno scrigno così bello deve contenere qualcosa di di prezioso e il suo amico senza accorgersi gli fece la catechese rispondendo lì c'è il nostro Dio. Allora mi ha fatto venire in mente chiudo con l'ultima perché è il sacro cuore di Gesù. Allora parliamo di cuori un un fatto un miracolo un fatto eh che successe a Sant'Antonio di Padova e e tra l'altro noi l'abbiamo pubblicato nei scenacoli di preghiera infatti anche l'amico Luca eh nel canale eh Pietro Paolo Trinità durante appunto l'ultimo incontro il tredici di giugno eh della tribucina ne ha parlato e guardate che bello molto toccante ma questo ci fa capire muore una persona e c'era presente il santo Sant'Antonio e quindi si stavano preparando tutti i preparativi per i funerali grandi perché era una persona molto ricca molto conosciuta e a un certo punto il santo ha una rivelazione e dice no quest'uomo è senza cuore quest'uomo è senza cuore ma come ma niente si ricomincia eh no ripete no quest'uomo è senza cuore a un certo punto chiamano i medici viene il dottore davanti a tutti lo aprono e il cuore effettivamente non c'era lo trovarono nella sua cassaforte in mezzo al denaro. Dov'è il tuo cuore sarà anche il tuo tesoro e viceversa. Infatti questo volevo concludere attenti perché ce lo dice il Vangelo no? Dov'è il tuo cuore? Eh là è il tuo tesoro. Ora il nostro tesoro è il cuore di Gesù ma vedete questi cuori come ritornano? L'Eucaristia che cos'è? Se il nostro cuore non sta nel tabernacolo ragazzi siamo morti e sapete cosa vuol dire per la Bibbia la seconda morte? La dannazione perché noi siamo battezzati. Se il nostro cuore di battezzati non giace in quei tabernacoli sotto casa o dove volete voi ma nel tabernacolo sono cuori morti. Ecco perché entrare nel cuore immacolato di Maria ecco perché consacrarci al cuore di Gesù eh venerdì adesso questa settimana proprio festeggiamo venerdì e sabato appunto i sacri cuori. No adesso eh no è appena stato pardon. Il diciannove eh il diciannove e venti. Esatto sì. Il diciannove e venti. Si può fare ogni settimana eh ogni primo venerdì quel mese quindi bene. Poi di questo ne riparleremo anche eh in un'altra tavola rotonda sulla sulla perdizione la dannazione eterna. Quindi dedichiamoci al al tabernacolo ragazzi. Esatto. Dedichiamoci ai tabernacoli. Andiamo a fare queste ore di guardia. Una volta si chiamavano così le ore di guardia. Sotto la tua protezione ci rifugiamo Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova ma liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta. Sia lodato e ringraziato e riparato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato e riparato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato e riparato in ogni momento. Il santissimo e divinissimo sacramento laudetur jesus christus ave maria e grazie a tutti grazie a tutti